salve a tutti dovremmo essere a posto anche con i volumi ho finito lo sciroppo per la tosse questo mi provocherà un decadimento biologico inevitabile comunque il disco dell'applicazione in realtà è inserito cara ps4 ehi console tutto bene ho sentito rumori strani dentro spero di non raccogliere briciole ragazzi l'ho sicuramente l'ho sicuramente inserito al contrario vogliamo provare a vado di vogliamo fare è blu il disco è blu speriamo bene ok più blind di così è blu speriamo bene un minor note all the fuel in your javelin was used in the journey from earth and the landing on your planet you will need to discover a local resource that you can refine into an appropriate fuel ah certo so i wish you good luck we will send updates on your progress as you complete your schedule surveys stay alive and see soon nice teletrasporto ok ok abbiamo una sorta di onda radar che mostra gli obiettivi e questo dovrei poterlo lanciare per attirare creature non siamo armati dopo tutto ma sono ma sono bellissimi tieni premuto un quadrato e li lascia per l'ultraschiaffone guardate la mano guardate le seal hey look at that you picked up some carbon good for you now he got about it the single most important tool for any colonizer oh my i feel kinda bad they're so cute and so full of juice wow è il suo occhio però non stanno apparendo creature strane era qua il nido le uova ultra schiaffone schiaffi guardate la velocità nessuno può resistere agli schiaffoni poverino schiaffoni vasca di soffioni stiamo molto calmi stiamo molto calmi ma le munizioni sono finite me lo sono perso trova la lega aliena la verdeggiante natura selvaggia di zio siamo su un'isola fluttuante cosa sono devo riuscire a scannerizzare quella cosa ho provato a buttargli l'esca ma ma l'avete sentito gridare no 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 Mi sento male E siamo solo all'inizio Non posso ridere Dov'è? Eccolo No Preso L'inizio di questo videogioco è delizioso È delizioso e ha potenziale Ce l'ha davvero E non mi aspettavo così tanto carattere Così tanto carattere non me l'aspettavo Mi piacerebbe continuarlo Però per ora la chiudiamo qui Ragazzi Grazie di essere stati con me Mi piacerebbe continuare a fare Mi piacerebbe continuare a fare Mi piacerebbe continuare a fare Mi piacerebbe continuare a fare